Alex Colciaco con il quale tu hai avuto una stagione 1990 incandescente, per una manciata di punti ha perso un campionato, lui quest'anno ha vinto il campionato dell'anturismo come faceva a suo tempo nel Formula 3 nel 90, che gli vogliamo dire? guarda sai cosa gli dico, sai cosa ti dico perché non serve neanche la domanda Robertino, ti faccio tanti complimenti, te li faccio piano perché ho poca voce in questo momento, ma sono davvero sentiti e vengono dal cuore, oh vieni a fare una gara con queste bestie qui, sono bellissime, ma immagino che anche tu ti sia divertito molto quest'anno, per cui non so cosa farei l'anno prossimo, ti faccio un grosso in bocca al lupo, ti mando un abbraccio in attesa di poterlo fare di persona, ciao grazie Alex